Michele Emiliano, il presidente della regione Puglia, uno dei tre candidati alla segreteria nazionale del Partito Democratico, in Molise ha ottenuto un importante e significativo successo, raddoppiando di fatto con il 23% di percentuale il dato italiano che lo vede ottenere poco più dell'11%. A Campobasso ha ottenuto dopo Bari la sua città e di cui è stato sindaco il maggior dato del consenso. Un risultato che è frutto di una battaglia difficilissima condotta fuori dalla corazzata organizzativa del Partito da un gruppo di militanti che si sono battuti con entusiasmo e con grande energia. Questo affermano in una conferenza stampa sostenendo ancora di più le ragioni di una mozione che sarà sostenuta tra gli altri anche dal consigliere comunale di Campobasso Giose Trivisonno che è stato eletto all'Assemblea nazionale del PD ma che, in una interessante novità, da essa si dimetterà nel prossimo futuro per lasciare spazio ai suoi colleghi di lista che, a rotazione, potranno fare l'esperienza assembleare. In Assemblea nazionale, il nostro segretario da ieri è Matteo Renzi, in Assemblea nazionale abbiamo il compito come rappresentanti della mozione emiliano di ricordare al segretario Renzi che non si possono lasciare indietro, come Partito Democratico, temi come il Sud, come i giovani, come la disoccupazione, una differenza di impostazione sulla scuola, una serie di temi che abbiamo portato in campagna elettorale e che da oggi invece dovranno essere portati all'interno del partito. Avete inaugurato una nuova situazione che è quella della rotazione, probabilmente entrete in Assemblea tutti quanti, tutti quelli presenti nella lista a rotazione. L'idea di squadra, ce lo siamo detti prima, era al di là del capolista, il secondo, dopo Dimeto che era a Fabio Norato, poi a Vincenzo Cordisco e infine a Maria Teresa Nardoia, rappresenteremo tutti la mozione a turno, facendo un'alternanza sostanzialmente, rappresenteremo tutti la mozione emiliano, abbiamo così tutti la capacità di poter portare il nostro contributo e soprattutto di crescere.